E ben a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, questo oggi ci siamo su un nuovo video, ragazzi usate perché ho l'influenza, quindi scusatemi, comunque, iscrivete al canale, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, io mi robo dei sistemi, non basso l'ufficiale, comunque, rilasciando questo, come ben sappiamo, io non ho voluto fare i video, adesso è un'ora di Ancelotti perché l'ha fatto tutti, L'hanno fatto davvero tutti, però voglio parlare di Gattuso, nuovo allenatore di Napoli, questo è il mio pensiero, ragazzi, quindi non offendete, non dicete, dicete sì, hai ragione, cioè vi farebbe molto piacere se mi avete ragione, ed è questo, ragazzi. Allora, Gattuso è un buon allenatore, un buonissimo allenatore, perché io voglio ricordare che ha fatto arrivare in Milano, in Nero, quarto o quinta posizione, non mi ricordo, fosse quinto perché è nato in Europa lì. Quindi, secondo me, Gattuso è tantissimo a Roma, come allenatore, io, per farvi capire, lo vorrei alla Juventus, però non è possibile perché lui, secondo me, non scenderebbe mai alla Juventus. Però, io lo vedo molto molto bene al Napoli, a me mi dispiace per Carletto Ancelotti, Ancelotti, sì, però Gattuso, secondo me, è un gran bel allenatore, secondo me, si merita di stare in quella, con la società, in quella piazza, si merita di stare al Napoli. Quindi, ragazzi, questo è il mio pensiero su Gattuso al Napoli. Se avete piaciuto, c'è stato un bel like, fatevi sapere questo commento della vostra, iscrivetevi al canale, attivatevi la campanella e ci vediamo un prossimo video. Bella, ragazzi.